Eccoci in diretta, 133 ancora i giocatori in gioco, blinds 150-300, siamo nel quinto livello dei sette in giornata, naturalmente sempre qui a Malta, stiamo seguendo su pochi ritaglia web il Day 1B, il primo premio sarà di oltre 120.000 euro per il giocatore che alla fine lunedì giocherà, come vedete nel tavolo finale che si giocherà e verrà stramesso in streaming, ecco il tavolo finale, verrà giocato lunedì, siamo nella poker room dell'hotel del casino qui a Porto Maso, sto facendo una breve panoramica, mi sposto anche all'esterno per farvi vedere da lontano un'inquadratura dei vari tavoli in gioco, potete notare veramente la bellezza di questa sala, una sala modernissima, c'è anche la parte in alto dove si può vedere il torneo. Sono stati oltre 250 giocatori che si sono iscritti a questa nona tappa dell'Italia Poker Tour che si sta disputando qui in Malta, un'isola di solito baciata dal sole, oggi invece tempo pessimo, ci rivediamo, ci risentiamo a breve sul Poker Italia Web con questo Day 1B. Grazie.